Controlli serrati da parte della polizia locale di Gallarate nelle zone rosse della città, a cominciare dalla stazione ferroviaria, con interventi organizzati come il presidio fisso dalle 18. Nei giorni scorsi in piazza Giovanni XXIII sono stati individuati diversi soggetti prevalentemente estracomunitari, spiega l'assessore Dalligna che bivaccavano nel parcheggio ulteriori pattugliamenti dopo le segnalazioni dei residenti che lamentavano raduni a base di bevande alcoliche e schiamazzi fino a tarda notte. In questa operazione sono stati identificati 24 soggetti, per tre di loro è scattato l'ordine di allontanamento. La presenza costante di interventi immediati delle battuglie in stazione hanno apportato a un sensibile miglioramento, conclude l'assessore Dalligna.